Io sto in silenzio. Prima parlate voi. Presente. Meno male perché questo silenzio era imbarazzante. Siete pronte? Siete pronte a ridere? Da 1 a 100 quante risate ci faremo oggi? Ciao Anna. Benvenute. Ci sono 3 occhietti. Solo 3? Siete solo voi? Vabbè facciamo una diretta rilassatissima se siete adesso in 4. Aiuto. Siete solo in 4. Ma allora io vado a fare una passeggiata. Allora non è vero lo sapete che anche per due persone farei una diretta e questa volta ho una diretta particolare e avevo proprio voglia di trovarvi oggi. Ma allora passo di lì? Arrivo? Ciao Lara. Ciao a tutte. L'ornella è arrivata. La Ambra. Come mai sei così in ritardo oggi? Marisa, Monica mi piace leggervi tutte. E... è per quello che sto qua dietro. Perché poi so che i commenti sul cellulare mica sempre li vedo. Invece adesso... Vabbè prima l'Ambra mi saluta e poi sul cellulare mi viene scritto che sta guardando il video in diretta. Ma va bene. Passo di lì? Vado a... vi vedo? Vengo a cercarvi? Dai facciamo l'entrata. Aspettate che mi metto a posto i capelli. Buongiorno. Buongiorno Fatine. Io... hai preparato le cose io. Faccio così, faccio così, faccio così, faccio vedere questo, faccio vedere quello. Non è preparato niente. Che meraviglia questo runner. Pensa quando sarà sul tuo tavolo. Allora, come sempre, mi sono preparata un po' di cose, un po' di... una linea da seguire durante la diretta e allora ho deciso di fare questa cosa. Prima vi farò vedere un pezzetto di lavorazione. Stavo guardando se avevo acceso la macchina perché... Vi faccio vedere un piccolo pezzetto di lavorazione, quello che ho fatto ieri in tutto il pomeriggio. La lavorazione ho dovuto farla precedentemente perché è una cosina abbastanza lunga. Ma piacevole, carina, divertente e molto facile. Molto facile. Partiamo? La Silvana, Silvana e Salvina. È bellissimo vedere come i vostri nomi sono spesso uniti, proprio uno in fila all'altro, nei vostri commenti. Allora, beh, io guardo i commenti ma so che non ci saranno delle domande per il momento. Partiamo. Come in tutte le dirette, io cerco di farvi vedere un po' della nostra attrezzatura, di quello che potremmo usare per cucire, per divertirci, ma anche per facilitarci. Diciamo che questa deve essere la nostra passione, un nostro momento di svago e assolutamente non deve essere un momento che ci innervosisce perché certe cose non ci vengono come vorremmo. Ogni tanto io dico sempre, voi divertitevi, cercate di non guardare troppi errori. Ci sono persone che lo sanno fare, persone che devono imparare questo passaggio, a prendere un po' anche il patchwork con leggerezza, nel senso che non vi dico che se un quadrato deve essere un quadrato voi lo fate così e va bene lo stesso. Però se c'è quella discordanza di un millimetro, va bene lo stesso. Parentesi, perché io ogni tanto devo sempre metterci dentro qualcosa così, no? Vi dicevo, come in ogni diretta che faccio, in ogni tutorial, cerco sempre di insegnarvi e di farvi vedere qualche progetto particolare fatto con delle attrezzature o con delle cose che ci aiutano. Questo, pieno di triangolini, d'altra parte la diretta si chiama triangoli perché i triangoli sono pezzetti di scarto. Si parte da un supporto, questo è un leggero stabilizzatore, è una carta morbidissima, vedete che è morbida, ed è un supporto sul quale noi andremo a cucire. Ora, adesso, intanto, riguardo velocissimamente e vedo se riesco a rispondere a qualche messaggio al volo, se c'è. Vado a prendere il supporto e cominciamo, non mi faccio ancora vedere, adesso state lì ancora un po'. Intanto, la Joelle mi saluta, buongiorno, benvenute a tutte. Io posso solo dire questo, un gran benvenuto a tutte, grazie per essere sempre così attive anche nei messaggi, nelle storie di Instagram. Grazie, grazie, diretta finita, finita. No, non è finita la diretta. Oggi faremo questo. Allora, è il supporto che vi dicevo, è una cosa molto semplice, è una cosa non velocissima, ma effettivamente fatta con questo supporto diventa una cosa molto veloce. Io voglio vedere che mentre vi ho fatto questa cosa così, la Marilena va dal dentista, che brutta roba. Che io mentre ho fatto, che figata. Va bene, Ambra, sei a posto così. Allora, naturalmente è questo stabilizzatore, ce l'avrete nel kit, ma può anche essere venduto a metro, diciamo a metro, a centimetro. C'è così e c'è anche a quadrettini. Diciamo che il quadrettino può essere proprio per le persone lontanissime dalla nostra manualità, da chi non ha squadre, da chi non ha mai avuto la possibilità di calcolare, di saper tagliare. Questo diciamo che è comunque una cosa facile, ma ci fa fare quel piccolo salto di qualità. Perché comunque questa cosa qui, fatta con la tecnica tradizionale, io veramente non mi metterò neanche mai a farla. Non mi sarebbe mai venuto in mente di farlo. Con questa cartina è un po' più semplice. A questo punto, il ferro è ancora spento, vi giro e comincio a spiegarvi due cose per quanto riguarda la preparazione del nostro lavoro. Magari se mi alzo, andiamo, vi giro piano piano, spero di non aver toccato perché avevo toccato qualcosa, ma credo di no. Allora, vedete che questa carta, ma adesso ve ne prendo un pezzo pulito, questa carta ha delle linee blu e sono, non so come dirlo, e ci sono disegnati dei triangoli piccolissimi perché sono veramente piccoli. Diciamo che io ho fatto il triangolo formato da due di questi moduli, perché è veramente piccolo così, dovevo iniziare due settimane fa. Però, effettivamente, diciamo, un portacellulare, un portocchiali, la tasca di una borsa, la tasca piccolissima di una borsa, può essere fatta anche con questi triangoli molto piccoli di lato. Noi abbiamo, adesso cerco di evidenziarvelo così vi faccio vedere, aspettate che prendiamo, questo mi sa che non lo vedrete, però aspettate che voi lo vedete, vero? Allora, vedete che, guardate, questo è il triangolo che noi andremo ad utilizzare. Vedete che cosa ho fatto? Mi sono fatta proprio le linee del triangolo, con una bella biro rossa, ho calcato un po' e ho fatto praticamente questa fessura che noi dovremo andare a ricoprire con i nostri tessuti. Ho usato, attenzione che vi giro, questi bellissimi tessuti giapponesi che mi sono appena arrivati. No, bugia, io non ho usato questi tessuti, ma ho usato tutti gli scarti, vi ricordate, del progetto giapponese. Ne avevo tantissimi, quindi ne ho approfittato. Naturalmente nel kit, metterò questi perché sono magnifici, quelli vecchi li teniamo da parte, no? Ne avevo veramente, veramente pochissimi e quindi insomma utilizzeremo un po' e un po'. Poi per i kit ci pensiamo in un altro momento, vi racconto come andrò a fare questo lavoro, cioè come strutturo il kit più avanti, insomma, se faremo in tempo adesso. Vi giro, beh, storte, comunque vabbè, e andiamo a cominciare a lavorare. Ve lo ricordate il paper piecing? Avevamo fatto quel centrotavola con i batik? Il sistema più o meno è lo stesso. Ho visto una faccina arrabbiata, perché avete scritto una faccina arrabbiata? Allora, andiamo, partiamo. Vedete che qui in trasparenza, penso che si veda, è il triangolo che io mi ero disegnata, logicamente partendo dalle fasce, dalle righe sul dritto, diciamo, di questa carta stabilizzatore. Mettiamo un pezzo di tessuto. Diciamo che voi dovrete metterlo, se utilizzate un tessuto americano che non sia giapponese, quindi in cui il diritto è rovescio non ha quella grande importanza, voi lo mettete sul diritto, sul diritto e soprattutto se avete già una linea squadrata, andate a posizionarlo, visto che noi adesso stiamo parlando di questo triangolo, andate a posizionarlo in questa posizione, quindi sulla riga, facendolo scorrere del nostro solito quarto di pollice, un po' di più, diciamo che la partenza non è così definitiva, possiamo poi andare a rifilare dopo. Vado comunque a fissarmi uno spillo. Questo triangolo, che è quello che dovremo andare a ricoprire subito dopo, verrà fatto in questo modo, ossia vado a fare la mia cucitura e poi in questo modo avrò formato con una prima cucitura nel primo momento triangolo rosa e triangolo marrone. Quindi se volete potete lasciare così, oppure se volete potete andare a fissare tutti e due. L'unica cosa è che questi due tessuti, una volta che li avete messi, aspettate che li giriamo così, vedete che arrivano qui, quindi siamo in abbondanza rispetto al nostro quarto di pollice, diciamo che da qui alla macchina per cucire i tessuti non devono essere spostati. Che cosa andiamo a fare? Andiamo a fare la cucitura qui. Allora, posso suggerirvi un avanti e indietro per tantissime strutture, perché poi comunque questi triangoli possono essere sfruttati in tantissimi modi diversi. Diciamo che, vedete che io qui ho lasciato questo spazio ed è lo spazio in cui poi andremo a fare questo lavoro e quindi andremo ad unire di nuovo tutto questo pezzo con questa fila di triangoli, diciamo che fare l'avanti e indietro in questo coso, in questo coso scusate, in questo momento, non è indispensabile, è proprio la stessa cosa per cui non facciamo l'avanti e indietro quando facciamo la classica cucitura patchwork, perché comunque poi tutte vanno ad incastrarsi e quindi non si disferà proprio niente. Andiamo a cucire, quindi aspettate che devo muovere il cellulare perché l'avevo lasciato lì, allora che cosa andiamo a fare? Andiamo a cucire, quindi giro e andiamo a fare questa cucitura. Ora, vi sposto, diciamo che per questo momento io faccio la cucitura e vi faccio vedere, aspettate che buttiamo la sedia lontana, faccio la cucitura e vi faccio vedere com'è la cucitura, poi per tutte queste cercherò di avvantaggiarmi un po', di andare un po' in fretta perché effettivamente il passaggio è un po' lungo, vedete, io ho fatto solo questo. La giustificazione per cui, aspettate, vi giro sul piano stiro, la giustificazione per cui ho voluto fare questa striscia di tessuto pur sapendo che comunque viene un lavoro un po' ripetitivo e insomma mi dovete stare a guardare per fare tutta questa striscia è che volevo comunque farvi vedere l'inizio. Allora, ho stirato, che cosa dobbiamo andare a fare? Dobbiamo andare a rifilare esattamente nel modo in cui utilizzavamo questo righello e nel modo in cui andavamo a lavorare con il paper piecing. Qui, vabbè, è un bordo, quindi effettivamente questo lo tagliamo a filo, ma, e questo, aspettate che mi sia aperto tutto, e questo è il passaggio fondamentale, se questa è la mia cucitura, io piego oltre la mia cucitura, quindi l'altro pezzetto, e l'altro pezzetto, sono scomodissima, mi permette di fare, vi giro, vedete, questa linea e il mio triangolo. manca ancora questa parte che è eccola qui, che è questa. Appiattiamo bene, dopo gli diamo un'altra stirata perché il ferro effettivamente era un po' basso. Eccoci. Aspettate. Ok. Vedete che comunque questo stabilizzatore si può stirare tranquillamente. che cosa facciamo adesso? Andiamo a prendere un altro pezzo di tessuto, effettivamente, se volete, potete puntare degli spilli, io non punto niente, vado di corsa, vi lascio qui un secondo, vado a fare questa cucitura. Abbiate pazienza, non vi giro in continuazione perché dovrei girarvi 150 volte. Adesso faccio questo, poi facciamo così. Una volta, ogni tanto, ho fatto una cucitura stortissima, una volta, ogni tanto, vi giro, non sempre veramente perché sennò davvero non finiamo più. Fatto la cucitura, vedete, apro, stiro, piego, e vado a piegare in questo modo, aprendo, se non mi incastro, sarebbe una bella cosa, vado a vedere qual era la mia ultima cucitura, quindi, il prossimo giro è il giro dove io devo piegare il mio tessuto. Io non faccio mai, non mi ricordo mai che in diretta con il tablet fra me e voi tutto diventa più complicato. stessa cosa, adesso vi giro perché questo questo punto non che sia più importante degli altri, ma merita, cioè nel senso che ogni tanto vi giro, ho messo il mio tessuto, metto uno spillo perché comunque devo, aspettate che vi giro, sono in questa situazione, metto tutto il mio stabilizzatore, il tessuto così e vado nel primo pezzettino e vado a cucire sulla linea. Chi mi ha seguito taglio, vedete che io addirittura taglio e tolgo lo spillo, apro e ho fatto un altro quadratino. Adesso vi giro perché andiamo a stirare. Allora, nelle pubblicazioni ma non mi vengono le parole quando sono in diretta, quando mettevo le foto, soprattutto ieri, dicevo non è possibile, ho sbagliato per tre volte di fila la stessa cosa che è effettivamente una cosa stupidissima che non mi era capitato, guardate, ultima cucitura, piego così, che non mi era capitato assolutamente nella nella lavorazione con il tessuto americano. Assolutamente non avevo fatto un errore di questo genere. Con il tessuto giapponese, scusate, avete tremato, con il tessuto giapponese mi è capitato per tre volte di fila, ripeto, che è veramente testona, che il tessuto giapponese è talmente leggero, talmente morbido, intanto vado a cucire, l'ho messa qui e vado a fare questa cucitura, talmente leggero e talmente morbido che mi si è piegato e quindi praticamente ho cucito, adesso faccio questa cucitura e vi racconto come, così capite, intanto ho tagliato, ci sono qui, avevo praticamente cucito così, quindi questa cucitura con questo pezzo che mi si era accartocciato, ripeto, il tessuto giapponese è talmente morbido che mi aveva provocato questo questa piega insomma, quindi quando andate sotto la macchina da cucire, soprattutto se avete dei pezzi magari degli scarti un po' più lunghi del normale, un po' più grandi di quello che effettivamente serve, spero di essere in quadratura, di quello che effettivamente serve, fate attenzione, piuttosto o li tagliate a filo oppure cercate di mettere questo no, questo mettiamo un chiarissimo, o cercate, ecco, in questa posizione o li tagliate un pochettino più piccoli in modo che questo, ma avevo anche delle strisce, non diano fastidio, oppure fissateli anche in questo modo, perché così voi quando lo girate sapete esattamente che quel pezzetto non cade, non si accartoccia. Adesso vi faccio vedere, ancora un punto, serve, oh non va, ok, allora, vi faccio vedere che cosa dovete controllare per vedere di fare tutto giusto. Dovete controllare che una, due, tre, quattro, cinque, che ci siano tutte le cuciture e che non state dimenticando nessun pezzetto. vi assicuro che è una cosa molto, molto automatica. Però io ogni tanto sbircio, quando, quando mi vedete distratta che sbaglio le parole, che dico delle parole al posto di un altro, è perché faccio cento lavori in uno, ossia vi parlo e intanto cerco di leggere i vostri messaggi, tipo adesso ho visto la guerrina che saluta, benvenuta, però non ho beccato delle domande, quindi se ci sono delle domande ripeto sempre, io dopo la diretta mi siedo al computer cercare di rispondervi, però effettivamente non è una cosa, voglio un rosso, non è una cosa facile perché le volte mi metto a riguardare tutta la diretta e un po' mi perdo. L'ho messo così, quindi l'ultimo passaggio che ho fatto e adesso andrò a cucire, vedete, sono arrivata a fare questa cucitura, questa mi manca. Alla prossima vi prometto che vi giro e mi guarderete anche cucire. Quindi se ci sono delle domande segnatemele qui, poi al limite ripetetemele un po' di volte. Boss delle fatine, boss delle fatine è una cosa tutta molto dolce con con boss, aiuto. Allora apro andiamo a piegare così, piego le linee della birro rossa servono naturalmente per vedere dove siamo arrivati, per vedere i punti che devo fare e come piegare ma anche perché vedete che la piega segue proprio la pressione che io ho fatto con la birra sul tessuto su questo stabilizzatore. Ci siamo quasi eh? Vado a mettere questa vi giro cioè non vi giro cioè vado io vi giro non vi giro dico le cose non le faccio la prossima promesso vi giro ma il righello giallo indispensabile allora il righello giallo ci permette di essere un po' più veloci guarda Daniela adesso ti faccio vedere allora apro faccio giro e senza righello vedete che allora a parte che io non mi formalizzo quindi ci sono dei retro dei miei dei retro di miei lavori molto peggio di così però vedete che guardate come devo andare lenta che effettivamente è andata devo andare lenta quanto invece piego metto il righello e taglio con sicurezza tutto non è così indispensabile anche questa carta che sto usando in questo momento non è così indispensabile ma adesso vi giro aspettate che sistemo perché appoggio l'ago vi giro e andiamo ripeto tutto non è indispensabile per assurdo neanche la macchina da cucire è indispensabile possiamo assolutamente cucire a mano ma ci sono delle attrezzature che ci aiutano vi giro e andiamo a stirare ci sono delle attrezzature che ci aiutano a non perdere la voglia di continuare a cucire ecco allora ho stirato apro prendo il righello poi è bellissimo perché vi avrei fatto volentieri dei video in questa posizione ieri ieri e tutti i martedì prima della diretta sono un po' agitata perché insomma vorrei che tutto fosse perfetto vorrei non farvi attendere vorrei tantissime cose e aspettate che io questo rosso lo vorrei usare però c'aveva la piegolina e vabbè alla fine prendevo al posto del righello prendevo il ferro da stiro al posto del ferro da stiro prendevo la rotella cioè alla fine mi venivano talmente automatici i movimenti che però non sapevo quale oggetto dovevo usare e vabbè c'era anche da ridere raster quick è fantastico ma il righello è per tagliare il quarto di pollice o una riga vale la o una riga vale l'altra allora non ho capito cosa vuol dire una riga vale l'altra però si il righello vedete che questo aspettate che provo a farvi vedere vedete che questo righello ha questo scalino è uno scalino millimetrico e guardate le mie unghie mangiate tutte e allora è uno scalino millimetrico e guardate io vedete che lo appoggio e più in là di così ci va solo se faccio forza quindi è un è un vedete ho preso il ferro da stiro invece che la rotella è un righello che mi permette proprio la velocità perché pur essendo finissima una carta mi dà il un margine di da non da non valicare valicare si dice non lo so e quindi si questo il giallo è un righello un quarto di pollice allora rosa ci siamo quasi forse addirittura questi vado a cucire forse addirittura questi non sono così indispensabili perché siamo molto molto fuori rispetto a quello che ci serve però preferisco in ogni caso andare fino in fondo non che poi a prodotto fa prodotto vedete come sono come sono stata enigmatica per non dirvi quella parola là ma adesso è quasi ora adesso vi faccio vedere che cosa faremo e niente mi spiace non molto probabilmente qui così nell'angolo non serve non ho neanche fatto tutto non servirà troppo però è proprio questione di due minuti e andiamo a fare ancora anche questo spazio vedete mi manca un triangolo quindi facciamo che farlo per non rischiare che poi facciamo le cose e ci sia un buco guardate come taglio poi più mi mettete fretta e più mi viene l'ansia e più sono lenta allora ultima cucitura vi spiego ancora bene da qui a qui queste sono tutte cuciture qui effettivamente manca questa poi invece non la faremo dipende da voi arrivare fino in fondo se vi serve fino in fondo io vi dico che questo supporto che faremo andrà stondato quindi lì da parte effettivamente non ci servirà assolutamente e naturalmente io vi ricordo quando sono le tre di darmi un un aiuto nel senso di avvisarmi che sono le tre così almeno anch'io so regolarmi su come siamo messe su quello che dobbiamo ancora fare in modo che vi vi spiegherò delle cose allora giro sempre e mi manca sempre un pezzo perché mi manca questo ok adesso chiaramente abbiamo tutta questa parte di triangoli e questi triangoli dovranno andare uniti in questo modo che cosa andiamo a fare quello che vi ho detto prima dobbiamo andare ad alleggerire un po' questo supporto in questo modo chiaramente farete delle prove in base al disegno che volete fare ci sono infinite possibilità magari anche una riga fatta un po' meglio perché vabbè l'ho fatta proprio male diritto contro diritto fate sempre delle prove ve lo dico sempre piegate qui se io vado a fare la cucitura qui vedete che chiaramente mi viene il lavoro fatto giusto vi giro vi sposto hai tagliato un triangolo della riga sopra sai che non ho capito cosa vuol dire allora diritto contro diritto andiamo e ok andiamo a fare la nostra cucitura logicamente nei vertici è un po' più spesso ci sono un po' più di spazi da da cucire quindi ci sono un po' più di strati se volete andare alla perfezione cosa che non è da me e adesso vi giro e vi faccio vedere mi siedo vi giro e mi riposo un attimo no fai con comodo allora eccoci qua se volete andare alla perfezione potete mettere uno spillo qui uno spillo qui quindi vertice a vertice in modo di sapere che lì deve proprio passare quella cucitura diciamo che per il lavoro che dobbiamo fare è più che sufficiente così più sono grandi i triangoli quindi più andiamo a sfruttare questa grigliatura con dei moduli più grandi e più sarà anche un po' più facile andare a prendere la la misura di questi di questi di questi incroci di questi vertici vi giro vi giro perché vabbè potevo anche non girarvi non so perché ho tolto il piano il piano di taglio perché mi servirà e come se mi servirà allora andiamo a stirare bene 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 pressiamo un po' perché deve tenere no adesso vi giro ancora vi faccio fare le giostre oggi perché allora innanzitutto vi giro mi nascondo perché preparo questa cosa qui spero che nessuno l'abbia vista perché deve essere una sorpresa e vado a prendere aspettate che andiamo a cercarla perché non la trovo più eccola qui un altro modo per utilizzare questa questo supporto la raster quick guardate questo è un altro modo vedete vi avevo detto i lati dovranno essere stondati eccoli qua i lati dovranno essere stondati per fare volete Carmela ciao cara volete vedere che cosa andremo a fare che poi magari in diretta si vede già perché io non ho notato volete vedere non intravedevo ho intravisto dei manici una borsina una pochette una borsa mi viene in mente per le medicine una borsa da mettere nella vostra borsa una borsa da mettere sulla scrivania in bagno ma non mi viene più è una borsina carina ma logicamente questo è un lato questo è un altro lato potrebbe essere questo un lato e dall'altra parte un'applicazione il nome quel che volete rigida abbastanza ho usato ho usato due imbottiture diverse perché qui ho messo la bosal e qui invece un'imbottitura normale vedete che ma logicamente l'obiezione ci sarà senz'altro sì ho capito ci metto le medicine nella mia borsa gigantesca perché in ufficio porto di tutto fa così noi andremo a fare anche una chiusura logicamente non potevo fare tutto in questa diretta quindi il tutorial il video tutorial per la chiusura di questa borsa sarà non questo sabato ma sabato prossimo nella newsletter questa cosa della newsletter mi sta aiutando un sacco a darvi un appuntamento che non vi stanca perché se io mercoledì prossimo avessi fatto la chiusura di questa borsa sarebbe stato una non sorpresa una ripetizione diciamo e invece così vi do l'appunto lo stesso quindi sabato fra 15 giorni io ho già due o tre signore che mi hanno mandato la mail sul cellulare non ho risposto perché mi lascia il messaggio così a mano a mano che volete essere iscritte diciamo che io vi mando adesso oramai è un po' che è regolare questa cosa una mail ogni 15 giorni il sabato alle 11.45 di mattina perché se lo faccio a mezzogiorno non so se vi arriva a mezzogiorno o mezzanotte perché vabbè quindi oggi andremo a fare questo diciamo cerco di fare con calma di spiegarvi il più possibile e a questo punto dove arriviamo arriviamo però adesso dobbiamo partire veramente allora questo ve lo spiego già questa struttura se volete ve la spiego con la raster quick quindi faremo se volete un altro video per fare il diamante allora nella kit ci sarà la raster quick sufficiente per fare due lati così due lati così oppure uno così e uno così come la mia borsina logicamente la borsina o con i tessuti giapponesi o con questo stile america oppure effettivamente con lo stile che volete voi con i colori che volete voi questa ci serve questa perché devo dirvi un'altra cosa abbastanza importante vi giro e vi faccio vedere che la posso leggere un po' però mandami la mail mandami la mail Maria Cristina mandami la mail ma non ti arrivano le mie mail era più piccola quella che ti avevo mandato e aveva la cerniera e la cerniera non l'ho neanche vista e questa si vede che mi piaceva poi sai che ok sai che Monica tu mi dai l'input ed è la terza o quarta volta che tu mi dai l'input poi logicamente io non riesco stare alle regole no e quindi e quindi faccio allora ho l'idea e il il punto di partenza per raccontarvi anche questa cosa la bosal la bosal è questa imbottitura che è alta un metro e mezzo e capite bene che come faccio a impacchettarvela ne prendete un metro io nel vostro pacco la metto così non vi arriva a casa così chiaramente non vi arriva a casa rovinata così ma appena appena la piegatura purtroppo c'è anche perché fare un tubone da un metro e mezzo forse sarebbe peggio che cosa andiamo a fare questa è la fine quindi vuol dire che la mia bosal nel tubone era probabilmente spiegazzata così e quindi ha fatto questo questo pasticcio questo questo pezzo è anche un pezzo che è finito qui dentro e vedete che anche non ho neanche cancellato le righe anche qui dove vedete che c'è la che è già terminata l'imbottitura vedete chiaramente che non non si vede come abbiamo fatto allora prendete un pezzo magari non del tessuto giapponese ma prendete un pezzo di cotone e la stirate vi assicuro che queste guardate vedete che è già cambiato che queste pieghe si rinvigoriscono e quindi il piatto della piega guardate non c'è più lo fate con calma adesso io faccio un po' in fretta voi lo fate con calma su tutti i lati e siete a posto così giusto perché così almeno l'ho detto poi effettivamente lo ripeto spesso alle persone che comprano che comprano l'imbottitura però io ho fatto una cavolata aspettate che vado a vedere perché non ho più la dima perché chissà dove l'ho messa adesso la cerchiamo se è qui e non la trovo più ma secondo me da qualche parte la troveremo e non c'è più non c'è più non l'ho messa viene da piangere aspettate che la cerchiamo bene 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 secondo me sapete che cosa ho fatto l'ho spostata per fare un po' di ordine e pulizia o magari è qui è qui fenomeno allora perché abbiamo bisogno la dima perché io tutta questa struttura la raster qui la lascio dentro la spillo un po' in questo modo intanto vedo se c'è qualcuno che mi sta guardando e che ha bisogno di qualche informazione allora in questo modo il mio pezzo precedente a diamante vedete che devo ancora passare i fili ma un po' è stato trapuntato questo diciamo che io vado a trapuntarlo questa volta facile un po' di linee verticali andiamo vi ho girato senza dirvelo e andiamo a fare questo lavoro un po' di linee verticali vuol dire che senza pensarci più di tanto semplicemente perché insomma abbiamo un po' fretta vado a fissare il mio lavoro quello tutto ben lavorato tutto ben sistemato alla bosal in questo modo diciamo che voi potete fare giocare col trapunto tutto tutto quello che volete soprattutto mi viene in mente che avere dei pezzettini piccoli così di strutture da trapuntare potrebbero anche essere quelle quelle occasioni per imparare per fare degli esperimenti col trapunto ecco questo magari se non andate storte come ho fatto io adesso è già una bella cosa per esempio guardate ho fatto due linee verticali questa parto da qui il filo lo passerò dopo e mi faccio una linea trasversale diciamo che posso decidere di fare un po' di un po' di un po' di un po' di giri un po' di un po' di lavorazioni un po' di giochi geometrici in questa posso anche fare un trapunto free motion diciamo che siete tutti molto 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 liberi liberi che cosa manca ne facciamo un altro che magari da qui arriva fino al prossimo fino all'altra linea trasversale vedete in questo modo poi ecco potete decidere vedete che io mi fermo qui potete decidere di passare i fili di io per esempio qui vado ad aprirli li passo insomma diciamo che io voglio fare abbastanza in fretta in questo momento per non farvi stare qui a vedere che io trapunto e diciamo che vabbè lo vedete quello che ho trapuntato vi giro perché andiamo a prendere quello che avevo bisogno io che non ci crederete ma l'ho già perso di nuovo no che questa è la mia dima la metto qui logicamente sul blocco diamante io l'avevo vedete piegata quindi questa è la metà che doveva coincidere esattamente con la metà del con il centro con questo effettivamente un po' chi se ne frega allora questo è un po' difficile da fare questo 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 taglio perché è un po' spessa effettivamente la bosal è un po' spessa e effettivamente io voglio già mettere anche il retro trapuntato l'abbiamo trapuntato quindi aspettate che facciamo un po' di spazio quindi diciamo che andremo a lavorare su questo in questo modo no così perché queste le linee le avevo messe in verticali ok logicamente andrete poi linee verticali devono essere ben verticali se li mettete oblique saranno ben oblique diciamo che insomma la mia velocità di oggi è un po' giustificata mi piacerebbe anche vabbè facciamolo così forse con una rotella più grande ma chissà dove credo sia anche solo lì sul tavolo però vedete che aspettate proviamo a vedere se taglia non so se taglia perché questa lama ha quasi la mia età però proviamo a vedere se come non detto taglia di più questa no qui non taglia proprio perché non c'è niente e niente facciamo così tagliamo poi con la forbice oh ho poca forza mi manca il pranzo se volete potete anche tagliare con una forbice c'è fiatone ok ci siamo quasi vedete che qui dove non so che effettivamente solo qui ero proprio molle ma questo spazio lo tagliamo con una forbice se volete potete anche eh tagliare con eh niente qui ma probabilmente ho fatto un pasticcio non riesco a tagliare proprio questa fetta qui vabbè fa niente no è la piega della raster quick che fa più spessore del solito e la mia paura di andare storta ok e noi ci siamo eh però aspettate che andiamo a fare questo lavoro tagliamo quel che manca così e così e abbiamo fatto i nostri tre lati che fatica e abbiamo fatto i nostri tre lati allora togliendo questa ma mantenendo i tre strati che non si muova niente anzi incrementando gli spilli guardate che bello questo incrementando gli spilli vado a vedere che sia tutto perfettamente vedete tagliato giusto sia sopra che sotto perché adesso devo farlo sia con questo che con questo vi giro e andiamo alla macchina da cucire dobbiamo andare a non so dove siete dobbiamo andare a fare una cucitura tutta intorno semplicemente per fissare i nostri tre strati non è una cosa indispensabile e obbligatoria ma sicuramente ci aiuta poi quando andremo vedete che anche se si accartoccia un po' l'importante è avere i tre strati che non scappano via quando andremo a fare l'unione di tutti i pezzi noi abbiamo bisogno comunque che di non di non avere la preoccupazione di non cucire la fodera di non cucire il davanti di avere una piega tipo così logicamente più trapuntate e più trapuntate vicino ai bordi e più sarà preciso e perfetto il vostro lavoro che sicuramente voi farete un po' più con calma e senza fiatone ci ho ancora il fiatone da prima e ci siamo quasi un altro modo aspettate che noi arriviamo qui un altro modo un'altra soluzione per fare praticamente la stessa cosa e adesso ve lo faccio vedere qui con questo è addirittura non tagliare lo strato sotto ma fare praticamente la stessa cosa che io ho fatto con lo strato triangolini con lo strato della fodera dell'interno più grande sarà sarà poi un lavoro di rifilatura dopo successivo la cucitura è una cosa importante che non vi ho detto deve essere più piccola di un quarto di pollice vedete che io sto andando a filo e in certi punti non sto neanche cucendo ma sto andando anche un po' fuori non ha importanza l'importante l'importante è che ci sia un po' di cucitura ricordatevi sempre questo pezzo che non so perché non ho voluto tagliare non deve andare a finire sotto mi raccomando cercate di fare le cose un po' più precise di me un po' più lente diciamo che se ci mettete anche più di un'ora a fare questa pochette è meglio vedete che però noi abbiamo praticamente quasi fatto il giro sempre con la mia manona davanti credo viate pazienza eccoci quindi vi giro questo taglio poi guardo perché il mio telefono è stato nascosto chissà da dove vedo se ci sono delle domande vi giro e questo taglio lo facciamo controllate prima e vado a tagliare vedete in questo modo a filo forbice rotelle piano di taglio vedete voi come siete più comodi spero di non esagerare a lasciare troppo margine però vedete sto facendo questo lavoro direi che bisogna fare un po' più d'attenzione nel primo metodo quindi tagliando a filo tutto lo sapete che io quasi mai taglio a filo tutto preferisco rifilare dopo ma effettivamente in questo caso preferisco l'altro metodo quindi prima taglio e poi faccio questo togliamo subito gli spilli che se no poi mi buco e non servono questo è un lato dietro questo è il lato davanti vedete voi e questi sono la faccia davanti e la faccia dietro a questo punto cosa facciamo andiamo a fare il la base vi giro perché vedo che cosa ho preparato non so dove vi ho girato povere oh mamma mia ho già fatto un pasticcio io qui aspettate non è che devo girarvi non sono capace adesso state no abbiate pazienza come vi come vi giro eravate così no ma qui oggi oggi le comiche un cinema oggi ok non so che cosa ho fatto di particolare ma adesso ci siete un po' storte ma ci siete allora la base aspettate che vediamo ok la base è questa qui vuol dire che io ho preso la stoffa che sarà il mio interno la bosal questo che sarà l'esterno ho deciso che forse se noi finiamo la nostra borsina così ovunque poi la appoggiamo si lava tutta è però diciamo che una una stoffa un po' scura è più conveniente vado a prendere ma questa è una cosa facilissima ma voglio farvela vedere giusto per raccontarvi un altro piccolo pezzo che vi può servire per questo e per mille altre cose voglio fare una trapuntatura a quadrati messi in diagonale allora che cosa vado a fare qualsiasi squadra righello la stecca che avete non ha importanza vado a mettere questa linea alla base e attenzione agli spilli non li voglio togliere perché se no ci va tutto assieme sta cosa comincio a fare questa dopo di che vado a mettere la mia riga sul punto da due pollici quindi vado a calcolare i due pollici facciamo un trapunto molto molto staccato molto semplice perché anche qui se no non finiamo più e vedete che andiamo a fare questo lavoro questo sarà il nostro trapunto è molto semplice ma vi assicuro molto di effetto dopo vi faccio vedere il fondo della borsina che avete visto prima con i colori america allora come ho fatto a fare questa linea esattamente perpendicolare vedete la linea sotto blu ho messo qualsiasi griglia sul mio sul mio pollice però potevo metterlo anche qui a metà e vedete che ho creato quattro angoli retti adesso mi sposto calcolo uno e due e faccio questo lato di nuovo uno e due qui forse probabilmente non servirà neanche forse in quella ma adesso ve lo dico subito perché vi faccio vedere forse in quella che ho fatto ieri le griglie sono state fatte a un pollice e mezzo mi sembra che qui ne abbiamo poche da fare ma logicamente sapete che guardiate sì esattamente guardate però è bellissima queste sono un po' più piccoline queste sono più grandi però che cosa andiamo a fare vi giro in questo modo e andiamo a fare la nostra cucitura praticamente così parto da qualsiasi linea fate attenzione che lo spillo non vi deve dar fastidio e vado a fare la mia cucitura praticamente dovrei andare a farle tutte e le avete vinte avete guadagnato una cucitura così molto facile e intanto che vado a prendere il telefono e proviamo a vedere se c'è qualcuno che mi scrive bello questo trappunto già bella senza finirla sempre in ritardo ma ci sono l'anna è venuta benvenuta anche a te vedo lei e non il lavoro ma secondo me era un messaggio scritto poi probabilmente ho cambiato inquadratura e mi hai beccato basta se c'è qualche allora mettiamo a posto il cellulare se c'è qualche domanda io sono qui che aspetto proprio gli ultimi commenti perché in teoria così almeno non perdiamo tempo non vado giù con gli altri commenti solo perché poi dopo abbiamo una diretta lunghissima comunque vi ripeto abbiate pazienza se non vi rispondo anzi chissà se c'è la ornella che di solito scrive il mio numero di cellulare 347 89 4 6 5 1 1 non so perché ho girato se avete bisogno di contattarmi perché avete fatto una domanda importante e io non vi ho risposto scrivetemi così almeno vi rispondo sul cellulare vi rispondo chiaramente qui ogni tanto i messaggi me li perdo un po' siamo a più di metà eh magari se le fate un po' più eh dritti queste righe fate prima per lo spessore che ago si usa ho usato un ago penso di avere su un 80 non è adesso è bello perché forse mi si è sfilata no eh allora la borsal è un'imbottitura talmente morbida che io non ho mai cambiato l'ago diciamo che tutta la pochette che ho fatto ieri pochette è una pochette boh l'ho fatta con questo ago qui è ancora lui quindi in teoria non succede niente intanto vado a memoria che filo si usa per trapuntare io uso un 50 aurifil bella domanda perché ieri una signora che sta partecipando al corso base deve trapuntare ma nel corso base generalmente le signore hanno imparato a trapuntare a mano io almeno la prima trapuntatura la insegno a mano perché insomma non tutte hanno una macchina con uno spazio grande per farci stare la coperta matrimoniale perché alla fine poi tutti hanno fatto una coperta matrimoniale questa signora mi ha semplicemente chiesto adesso vado a prendere la dima del fondo semplicemente spillo e andiamo a tagliare allora questa signora vado eh questa signora mi ha semplicemente chiesto che colore uso perché mi diceva ho i blocchi chiari mi sembra che mi abbia detto però il bordo della coperta l'ho fatto scuro divertitevi non ci sono guardate bello stortissimo l'ho messo divertitevi non ci sono regole potete fare tutto quello che volete logicamente una coperta country non la trapuntate col filo fucsia però effettivamente potete fare un blocco tutto sullo rosso naturalmente country un blocco tutto blu un blocco tutto verde potete giocare come meglio credete io vado a tagliare a filo anche qui potrebbe essere necessario andare a fare una cucitura tutto intorno però effettivamente qui vedete che sono andata a trapuntare oltre quindi i tre strati qui non si aspettate non assolutamente non non si non si dividono quindi ripeto i colori del vostro trapunto e gli stili del vostro trapunto sono molto molto semplici lo sapete che io e le regole non andiamo proprio tanto 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 d'accordo quindi potete proprio almeno in questo in questo ambito dove si può potete sperimentare giocare divertirvi fare tutto quello che volete magari tagliare un po' meglio ma tanto chi se ne frega non non c'è niente che che ci che ci che ci dà fastidio qui in questo taglio malfatto allora questa sarà la nostra pochette abbiamo bisogno i laterali allora andiamo a cercarli i laterali sono fatti in questo modo vedete una classica imbottitura di poliestere un tessuto che io ho fatto dello stesso colore del fondo per insomma un po' di per richiamare un po' il il mio poliestere la mia imbottitura che può anche essere la bosa potete fare quello che volete insomma logicamente potete sperimentare anche in questo caso il mio la mia imbottitura va rivestita col tessuto e adesso velocissimamente ma veramente velocissimamente vado a fare una trapuntatura che può essere a filo che può essere anche una trapuntatura sul centro disegnatevela anche qui potete decidere di tra l'altro io adesso fantastico Lara filo bianco sotto e filo beige sopra quindi non posso ma voi mi state vedendo sì non posso fare questo lavoro perché sennò vedete che qui è il bianco dovrebbe andare poi all'interno però vabbè abbiate pazienza quindi faccio in questo modo e diciamo che potremmo decidere di fare un disegno di fare adesso ve la faccio tanto noi siamo qui per giocare facciamo una trapuntatura di questo genere vedete a ramo ramoscello a gambo di fiore essenzialmente una curva così non abbiamo ne preso misure ne fatto niente di particolare vedete potete farne due potete farne tre potete fare dei pallini tutto quello che volete ma quando noi andiamo a fare il trapunto partendo da qui vedete che comunque abbiamo dei fili che io effettivamente vi giro piano piano non avevo assolutamente nessuna voglia di infilare di rifilare allora prendo questo aspettate che guardo e l'ho piegato così prendo questo un bordino diciamo ho considerato che questo un po' più vivace un po' più colorato è il mio diritto ho fatto una piega in mezzo adesso i lembi li metto in questa posizione così e così piego di nuovo ci sono piego di nuovo e ho fatto un bordino velocissimo e facile questo sarà il bordino che deve andare a sistemare la parte superiore perché così gli ho dato un po' di una sfiziosità non so neanche se si dice lo fissiamo in questo modo e adesso andiamo a fare una cucitura che può essere sufficiente spero si veda può essere sufficiente questa perché comunque vedete che se io la faccio così la cucitura io il mio orlino l'ho messo fino alla parte centrale quindi non succede niente ho preferito vi giro e andiamo a farla ho preferito farne due perché mi sembrava ore 15 grazie Silvana ce la facciamo forse non finito tutto ma andiamo avanti ancora un pochino vedete che io faccio questa cucitura sempre a distanza di un quarto di pollice in questo modo e poi effettivamente bisognerebbe ricordarsi il punto di riferimento che avevo tenuto prima cioè tipo due ore fa però credo sia di nuovo la guida sulla mia cucitura appena fatta ed essenzialmente vabbè ho fatto un po' un pasticcetto però con la calma ok abbiamo fatto l'altra cucitura che vedete che mi da il margine un po' più che si alza meno insomma eccoci e questi sono i pezzi li abbiamo fatti tutti secondo voi i pezzi intanto vi giro li abbiamo fatti tutti i pezzi allora mi siete anche cadute allora base questi sono davanti e dietro e i laterali andranno fissati uno qui e uno qui io devo guardare devo fare attenzione al filo della tra puntatura che uno è beige uno è bianco ma vi giro di nuovo aspettate che provo andare a vedere la posizione giusta vi giro di nuovo perché dobbiamo andare a fare una semplicissima cucitura allora come la facciamo questa cucitura la facciamo rovescio contro rovescio ok perché in ogni caso e la facciamo a meno di un quarto di pollice perché in ogni caso questa cucitura verrà poi rifinita da un binding e di conseguenza dal momento che il binding andrà cucito ad un quarto di pollice le nostre cuciture queste che ci servono aspettate che non è questo ma è questo queste cuciture che ci servono per unire i vari pezzi dovranno essere poi nascoste dal binding quindi vedete che io faccio questo lavoro non faccio dei particolari avanti e indietro perché tanto queste cuciture potrei anche non farle mi servono solo perché così io sono un po' più tranquilla quando vado poi ad assemblare il tutto logicamente non ve l'ho detto ma pulite un po' tutti questi fili che soprattutto sui giapponesi ce ne sono allora di nuovo sono arrivata che questo è bianco il filo della trapuntatura quindi questo è il mio interno rovescio contro rovescio questa volta e vado a fare anche questa cucitura così ci siamo più piccola di un quarto di pollice e andiamo a fare la cucitura anche dell'ultimo pezzo così aspettate che l'ho messo un po' male ma poi con il con il binding si risolve tutto eccoci questa vi giro questa è la struttura questa è la struttura che dovrà essere rifinita con il binding per il momento la mettiamo lì perché voglio prima spero di avere tutto sì ma è una cosa facilissima e velocissima vi giro perché voglio prima raccontarvi qualcosa a proposito dei manici mille modi diversi per fare i manici ma guardate questi manici come sono belli rigidi sembrano rigidi ma nello stesso tempo vedete una consistenza particolare logicamente si può mettere dentro l'imbottitura si può fare il manico solo con la stoffa ma questo supporto che si chiama Bundfix mi è piaciuto tantissimo allora ha queste tre fessure questo è uno stabilizzatore diciamo che è un supporto che starà poi all'interno qui vedete probabilmente che è un lucido e io ci vado a mettere il mio tessuto allora due metodi particolari per cucire questo vabbè innanzitutto adesso dobbiamo andare a stirare è logico che io ho messo il tessuto appena appena più piccolo e effettivamente potrebbe essere che un po' vado a sporcare il ferro ma quello che mi interessa di più vedete che io adesso l'ho incollato quello che mi interessa di più è che quando io vado a fare questa piega in questo modo non so se mi vedete sì e quando poi vado a fare questa piega aspettate che andiamo a ristirarlo un po' aspettate che non è stato quando vado a fare questa piega quando vado a fare questa piega e poi effettivamente quella centrale questo pezzettino e questo pezzettino che è impercettibile vi assicuro che vi aiuta perché io quando faccio così mi sta già un po' attaccato e guardate com'è facile com'è semplice perché le piegature sono già fatte con questo tratteggio effettivamente questo materiale è adesso facciamo in frettissima vi sposto se non mi cade tutto vi sposto e andiamo a cucire questo materiale effettivamente è un materiale che si usa adesso ridete ragazze adesso ridete perché devo no 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 pensavo di dover infilare l'ago no 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 meno male perché cioè ieri vabbè allora è uno strumento sartoriale anche per per le cinture per per proprio i vestiti io non so se mi vedete io assolutamente non sono la persona adatta per per spiegarvi come si usano proprio in sartoria questi materiali fatto sta che comunque se la sartoria prende da noi qualche tecnica particolare prende da noi tipo le rotelle tipo qualche squadretta particolare noi abbiamo rubato questo e quindi e quindi insomma è una cosa è una cosa bella è una cosa comoda guardate in un attimo abbiamo fatto i manici se non avete questa struttura potete fare il manico rivoltarlo potete non si dice farlo su si dice neanche contornarlo di stoffa non lo so comunque i soliti metodi per unire i manici e questi manici che sono che non so dove mi state guardando logicamente è una lunghezza che volete voi che insomma non dipende da quello che decido io ma effettivamente diciamo che questo è un 35-40 cm per le dimensioni di questa borsa io le ho messi logicamente il bello dentro sistemato non così ma con i due lati come se fosse così e poi piegato le mettiamo prendendo come punto di riferimento vabbè diciamo che in questo caso questa linea verticale e vado a fare una cucitura anche questa è una cucitura che chiamatela provvisoria adesso la faccio e vi faccio vedere chiamatela provvisoria chiamatela una cucitura di aiuto perché comunque effettivamente anche sto anche andando avanti e indietro la rinforziamo un po' questa cucitura ci serve perché quando andremo a fissare il binding questo almeno è un punto che vedete questo la faccio così vado a cercare l'altra cucitura che è questa in generale sì la linea centrale c'è quindi adesso vi giro e guardate questa aspettate che vediamo se siete in inquadratura a parte che c'è tutta la borsa davanti quindi non so se vedete però vedete sempre a distanza più piccola del quarto di pollice però una cucitura che mi permetta di fissare il manico e non pensarci più ok logicamente non ho tagliato logicamente il tutto vi giro di nuovo ma sì giriamoci logicamente il tutto anche dall'altra parte dall'altra parte non abbiamo il punto di riferimento delle linee verticali ma abbiamo il punto di riferimento di questi manici quindi praticamente la stessa cosa ma aspettate che prendo la borsina facciamo in frettissima fare un lato lo sapevo di non riuscire a finirla però un pezzo alla volta la finiremo poi perché dobbiamo andare a fissare questo binding dove abbiamo già messo i nostri manici ma questo binding vedete questa bella curva non è il binding di una questo devo ancora ribatterlo di un runner di una cosa piatta ma è un binding fatto a sbieco perché noi dobbiamo tagliarlo a 45 gradi per permettere alla stoffa di piegarsi di utilizzare di sfruttare l'elasticità che c'è solo tagliando la stoffa non in dritto filo andiamo abbiamo quanto mi dite l'ora giriamo in questo modo allora effettivamente forse avrei bisogno dell'altro piano di taglio però ho proprio bisogno dell'altro piano di taglio allora vi giro e andiamo qua facciamo pulizia spostiamo i tessuti cade tutto ok perché allora qui 15 e 14 ce la facciamo facciamo questo e poi vi spiego ad unirlo e basta allora perché abbiamo bisogno di fare lo sbieco perché effettivamente vedete che il tessuto in questo lato se noi lo tagliamo qui cede più che qui e più che qui allora aspettate che guardiamo no mi spiace ma devo stirarlo perché se no cominciamo a farlo tutto storto sbagliatissimo e non va bene allora ci sono eh stiro in questo modo vado a prendere una parte dritta del tessuto aspettate che siete un po ok vado a prendere una parte dritta del tessuto vi ricordate la nostra squadra ha un mucchio di righe anche oblique all'interno ci serve quella che chiamiamo 45 gradi che sia qui che qui la posizioniamo in questa posizione e noi riusciamo a tagliare un pezzo a 45 gradi diciamo che ci sono infinite possibilità io per esempio in questo caso vi devo spostare vado a prendere questa linea del 45 gradi lo so che non mi vedete ma non so come mettermi vado a prendere questa vado il più in là possibile e taglio io potrei anche posizionare una volta che voi siete col vostro tessuto e la vostra squadra sapete come organizzarvi posso posizionare questa in questo modo e tagliare posso posizionarla così in questo modo e tagliare questo pezzo vedete che di alternative ne avete tante mi piace di più questa ossia vado a prendere il 45 gradi e no non è vero che mi piace questa mi piace questa vedete ragionate a fare con questi con questi cambiamenti perché qualche pezzo può esservi più utile tagliato così o così questo ho un punto di riferimento che mi va bene perché questo è uno scarto e lo sapete che con i tessuti soprattutto i tessuti giapponesi questo non sarà mai uno scarto prendo sul mio e vi sposto un po' sulla mia linea verso di me il mio 45 gradi vado il più in là possibile verso sinistra in modo da avere lo spazio per tagliare e taglio questo non è uno scarto però vedete che quando io taglio vedete come cede il mio tessuto questa è la linea di partenza dove la metto giro tutto il mio tessuto e lo metto in questa posizione posso anche questa volta lo sapete che io non vi faccio quasi ma non sono capace non vi faccio quasi mai utilizzare la griglia del piano di taglio ma questa volta potete anche sfruttarla perché se io metto l'ultimo mio taglio quello che ho fatto in diagonale sul verticale del mio piano vado a contare vabbè in questa pochette io ho fatto due pollici e mezzo potreste anche fare due pollici e un quarto non meno perché se no andrebbe a tirare troppo e quindi vado a fare due pollici e mezzo due pollici e mezzo per il momento credo siano più che sufficienti due a questo punto vado a fare aspettate questa vedete questa lavorazione perché è unito qui deve esserci una cucitura diritto contro diritto lo giro in questo modo non così perché se io faccio la cucitura così il mio quarto di pollice vedete che cosa mi fa capitare ma vado a fare questo lavoro sposto un po' più in alto diciamo che il mio angolino il mio triangolino qui deve essere più o meno uguale a questo però voglio gli spilli aspettate che andiamo a prenderli perché se no ora che mi sposto di là mi perdo andiamo a fare questa cucitura non sono capace andiamo a fare questa cucitura qui ci sarà il mio primo punto qui ci sarà il mio ultimo punto andiamo vi giro stavolta non piano perché siamo un po' in ritardo allora ago giù perché mi permette di capire da dove parto vado a fare la mia cucitura questa cucitura può anche essere un po' più alta del mio quarto di pollice solito l'unica cosa che ci interessa non so se mi avete visto l'unica cosa che ci interessa è che comunque quando io apro ho una linea retta vedete non sto parlando di questa di questa situazione di tessuto ma di queste scusate di queste due linee rette se io vi giro e la stiriamo capite di più perché perché tanto adesso dobbiamo stirare spero sia sufficiente per fare un giro perché qui vado ad aprire la mia cucitura in questo modo qui taglio un angolino e un angolino e vedete che io ho creato la mia linea retta piego in questo modo aspettate che andiamo a sistemare bene bene vedete come se non sono regolare nella cucitura scusate nella stiratura questa mi fa già la curva mi viene già una linea curva invece la linea curva la facciamo dopo perché ultimo passaggio intanto che vi saluto ultimo passaggio prendo prendo la mia pochette allora dobbiamo lavorare su questo lato perché è quello dove io ho già fissato i manici aspettate che vado a tagliare perché io ho bisogno un binding che comincia dritto che comincia giusto parto dalla base metto il binding che comincia dalla mia base spero si veda abbastanza perché ho la mano davanti e vado vedete come gira bene vado a fare tutto il contorno sono partita ma perché è molto più facile dal pezzo davanti dalle due parti davanti vado a fare tutto il giro ad una distanza di un quarto di pollice ho raggiunto un manico ho superato un manico adesso devo alzare spostare il tutto dall'altra parte e andare fino alla fine in questo modo ditemi l'ora ragazze perché vi voglio raccontare un'ultima cosa veloce allora il binding è stato sufficiente quindi noi siamo qui io ho già perso la forbice e l'ho lanciata perché io vado a tagliare questo vedete che il mio interno qui è poi da rifilare però il mio interno della borsa il mio esterno la parte esterna della borsa vedete che non so non mi vedete aspettate che facciamo così il mio esterno della borsa andrà ribattuto a mano perché il binding si ribatte a mano ma in questo modo logicamente cercando di adesso stavo guardando potete anche farlo un po' più grande se volete ma non lo so no ma a vostro piacimento no no così mi piace di più allora la cucitura la ribattitura a mano dovrà essere fatta in questo modo e non così cioè la cucitura deve essere nascosto stessa cosa anche in questo lato però questo poi ah guardate che bella questo poi logicamente avrà a un buco e che cosa andiamo a fare andiamo a prendere il nostro fondo lo pieghiamo mi avete 15 e 21 adesso andiamo lo pieghiamo in questo modo grazie segretarie signore fatine segretarie ho segnato la metà anche qui segniamo la metà insomma logicamente questa è una misura piccola volete una borsa fatta così potete fare allargare le misure utilizzare e fare una borsa fatta così quindi effettivamente vedete che è un modello che potete trasportare potete potete allargare a vostro piacimento allora 1 2 3 4 sono i punti in cui aspettate che facciamo in questo modo anche qui ho segnato la mia metà e vado a sistemare così diritto rovescio contro rovescio e vado a sistemare questa cosa qui così vado a prendere la metà che in questo lato corrisponde esattamente alla metà dei miei triangoli quindi faccio questo lavoro usate degli spillini che trovate dietro di voi e adesso cade tutto però utilizzate degli spillini un po' forti e rovinati oramai anche qui vado a sistemare la metà in questo modo e vado a fare questo lavoro bellissimo Anna Maria De Laurentiis mi dice bellissimo ecco qui è l'unico punto in cui non ho calcolato la metà no non è vero guardate la metà è qui se avete fatto le cose attenzione attenzione ho anche rotto lo spillo vabbè come disfare un set cinematografico e questa è la vostra metà cosa andiamo a fare adesso adesso scomodo sì tanto sempre con lo stesso ago non ho non ho fatto niente di particolare se non togliere il piano che logicamente quando siamo in diretta è un po' tutto complicato fare questi passaggi e vado a fare la mia cucitura tutto intorno aspettate che controllo anch'io l'ora abbiamo 5 minuti di tempo allora anche qui voglio fare una cucitura non so neanche se mi vedete ma vado a fare una cucitura praticamente sul davanti perché in ogni caso io non ho assolutamente bisogno di nascondere la mia cucitura perché tanto andremo a fare il binding quindi vado a segnare questo adesso mi finisce anche la bobina sotto ma si togliamo il tutto sistemiamo così rimarranno buchi no io ho solo tolto perché ho bisogno di spostare questo binding dall'altra parte appiattisco di nuovo ma il mio ago andrà nell'ultimo punto della cucitura precedente quindi in questo modo vedete è molto scomodo adesso soprattutto povere è scomodo per voi che non vedete assolutamente niente però comunque è una cucitura che prima o poi dobbiamo affrontare nel senso che esatto noi siamo arrivati qui e tolgo nel senso che prima o poi con questi oggetti di cucito creativo queste cuciture si fanno e andiamo a fare tutto il giro anche qui non faccio punti di fermatura non faccio avanti e indietro perché poi la stessa cucitura dovrà essere fatta con il binding perché anche qui andremo a cucire un binding all'interno no scusate all'esterno perché mi è venuto da dire all'interno perché potete anche potreste anche aspettate che qui arriviamo fino a metà tagliamo e giriamo potreste anche voler non rifinire la copertina la la borsa con il binding ma rifinirla proprio semplice e allora dovrete lavorare davanti con l'imbottitura e poi l'interno separatamente saranno poi da unire fra di loro con lasciando una piccola apertura per rivoltare ma questo in un'altra puntata voglio solo finire questa cosa qui per farvi vedere che la cucitura è fatta che la borsina è comunque messa a posto meno male che l'infilavo l'avevo già rotto perché se no l'avrei rotto adesso e basta e basta ve l'ho detto di condividere il video vi prego condividete il video quindi il binding lo mettiamo dopo allora brava perché perché io adesso questo lo devo ribattere vedete sia qui che qui e poi il binding sul fondo sarà quello che mi va a ricoprire anche questa ribattitura chiusa manico da una parte ci sarà anche il manico dall'altra ma finiamo in bellezza la diretta con questa cosa che appoggio così perché questa è la borsina invece finita nella newsletter di sabato non questo il prossimo ci sarà un breve video per farvi vedere come chiudere questa borsa vi lascio abbiamo fatto un'ora e mezza di diretta lasciamo spazio alle altre signore che che vi presenteranno degli altri video tutorial condividete il video mettete mi piace chiedetemi qualsiasi altra informazione datemi suggerimenti perché io ho quasi finito le idee buon pomeriggio ciao buona settimana buon fine settimana vi giro dove qui vi giro qui ma si dai vi giro sulla pochette che è caduta ciao a tutte ciao 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 termine ciao Grazie.